una buonissima serata a tutti voi grazie come sempre per essere qui questa giornata è trascorsa è arrivato il momento di rilassarsi di pensare a noi ma in questa serata come sempre nei primi giorni di ogni nuovo mese ci dedichiamo a quelle che sono le previsioni insomma di tutto quello che ci potrà accadere come sempre lo facciamo con un ospite che è graditissimo che io attendo sempre con grande ansia sicura sicura sicurissima e franco copes ciao ma che gioia a vederti ma sei bellissima ma questo fa capire che mi dirai delle cose terribili durante tutta la puntata ma sei tornata dalla luna sono tornata dalla luna perché mi mancavi perché insomma volevo essere sicura che anche per il mese di aprile no carina ti ho mandato il biglietto di ritorno anche perché sapevamo che dovevamo fare questa certo perché questo appuntamento è rinunciabile è molto seguito piace molto e poi insomma perché non essere al corrente di quello che ci potrà accadere durante questo mese qualche indicazione qualche modo per affrontare però permettimi che volevo ringraziare veramente tutti 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 gli ascoltatori che mi hanno ringraziato di quello che abbiamo fatto nei mesi scorsi del dei numeri dell'otto dove alcuni hanno vinto per il momento sospendiamo un po perché mi sa che avete vinto troppo ecco allora basta chiudiamo questa parentesi ci dedichiamo ad altro ad altro va bene allora franco che ne dici partiamo vediamo sono abilitata vuoi sapere qual è il primo segno la riete ma non sono i pesci no quello è l'ultimo eccolo qua va beh allora cari arieti nell'ambito del lavoro per voi questo mese di aprile sarà un mese fondamentale ma fondamentale nel vero senso della parola alcuni di voi che hanno iniziato un nuovo lavoro nel mese di marzo o febbraio potranno potranno avere delle grosse opportunità nel vero senso della parola sarà un periodo veramente eccezionale ma che bello questa sì che è una bella notizia veramente poi poi me li sono scritti c'è il toro ma allora in quel mese sulla luna mi sono esercitata molto e la decisione conclusiva è stata quella a un segno che tico che con geniale che doppio quel segno quale un segno che a te con geniale sì il tuo il mio certo certamente allora andiamo siamo al toro toro mentre in voi del toro devo dire che la sfera professionale scusate vedi mi fa ti distraggo è colpa mia devo tornare sulla luna sì devi tornare sulla luna chiedo scusa per voi del toro la sfera sentimentale avrà un risvolto positivo nel senso che chi voi del toro ha avuto delle piccole problematiche questo mese di aprile vi vedrà di nuovo ritornare in auge per molti single del del toro sarà un mese fondamentale ottimo periodo sempre per il toro anche a livello professionale valutare bene alcune proposte soldi in arrivo insomma il toro avrà un mese straordinario nell'amore ma che bello fortunati insomma coloro che fanno parte di questo segno ma ora arrivano i gemelli cari gemelli voi che siete un segno doppio quindi questo mese di aprile avrà modo di farvi capire gli sbagli fatti in passato quindi mese di febbraio mese di marzo cari gemelli siete stati un po sulla luna insieme a qualcun altro no detto mentre invece per voi questo mese di aprile vi vedrà al centro dell'attenzione sotto molti aspetti devo fare una previsione un po particolare per molti studenti dei segno dei gemelli sarà un mese fondamentale e molte persone dei gemelli che dovranno sostenere esami di qualsiasi tipo qualsiasi tipo vadino tranquilli che saranno superati brillantemente quindi bello il fatto che tu torni anche a dare dei consigli ai giovani a coloro che devo questo sai che te l'ho detto ogni tanto li metto perché è giusto perché esistiamo anche noi perché non siamo giovani tu sei vecchia io no tu sei uno studente infatti assolutamente ora però basta scherzare perché arriva un segno importante allora devi fare una scelta o quello che dirai vale per tutti anche per me sì oppure lo saltiamo e passiamo al segno dopo che cosa vuoi fare ma allora io direi di fare le persone serie e diciamo che per il segno del cancro così lo diciamo forte sarà un mese dove dovrete prendere delle decisioni importanti ma ripeto delle decisioni importanti per quanto riguarda la vostra sfera professionale quindi ci sarà probabilmente la valutazione o rivalutare un contratto o addirittura alcune proposte di lavoro veramente positive in amore per tutti i cancri che non siano dolores avranno in amore qualcosa di speciale e sarà veramente un mese dove alcuni del segno del cancro potranno programmare il loro matrimonio e quindi no però io non c'entravo nulla allora questo è quello che il cancro succederà in generale però siccome tranne però gli ascoltatori mi hanno scritto vogliamo sempre le chicche per quanto riguarda la nostra dolores perché sei amatissima allora per quanto riguarda l'oroscopo di dolores avrà un mese decisamente fortunato nel senso che finalmente deciderà di andarsene una volta per tutte questa volta in america va bene volentieri ecco e la teniamo in america per tutto il mese di aprile bene tornerò giusto per l'oroscopo di maggio benissimo io sono d'accordo adesso preparo anche le valigie porto tutto quello che mi può servire via ma cosa hai bisogno che vai ti compri tutto là compro tutto là va bene insomma qual segno c'è adesso ora siamo al leone torniamo seri ok voi del leone avete avuto il mese di marzo piuttosto particolare questo mese di aprile vi vede comunque in prima linea per risolvere alcuni problemi permettetemi di solito non tocco la salute perché tu sai che non sono medico però per molti del segno del leone sarà un mese dove dovranno combattere un po con dei piccoli malanni dei piccoli problemi che però verranno superati brillantemente ottimo periodo per il leone per fare delle modifiche in famiglia o in casa o decidere anche di fare una vacanza anticipata è veramente un mese fondamentale per i pesci per il leone per il leone quindi insomma tutto sommato ci sono sempre delle belle possibilità un po per tutti i segni per tutti i segni ci sono piacere perché insomma raccontare qualche cosa di bello poi aiuta a sorridere ma certo a noi piace sorridere scherzare poi tu allo scherzo ci sai però in america ci vai infatti infatti allora adesso il momento della vergine però cosa possiamo dire di questo diciamo che per quanto riguarda la vergine dovranno prendere delle decisioni importantissime anche perché molti della vergine hanno avuto un periodo di grosse difficoltà a livello professionale a livello personale e quindi finalmente escono da quel tunnel che si chiama cattiverio della gente questa è una cosa che disturba la serenità però devo dire il mese di aprile per tutti i segni della vergine ci sarà proprio la rivincita su molte persone e molti della vergine devo dire in generale potranno recuperare una bella somma di denaro discreto il lato sentimentale devono ancora pazientare qualche qualche mesetto per poter dire veramente sono felice definitivamente ma però ci sono anche buone notizie sugli altri fronti insomma bisogna anche imparare ad essere contenti di quello che si ha sembra una buona una buona soluzione credo ci sia ancora il tempo per un altro segno prima di fare una brevissima pausa siamo alla bilancia ai cosa devo dire della bilancia è un segno doppio quindi anche voi allora qui devo iniziare col dire che per la bilancia sarà un mese dove dovranno costruire ma ripeto costruire qualcosa di positivo in ambito professionale ma nella professione voi della bilancia dovete anche valutare un po' tutte i pro e i contro ci saranno delle grosse opportunità ma vanno studiate a tavolino non scendete a patti decidete per voi stessi in campo sentimentale il segno della bilancia ci sono molti del segno della bilancia che arriveranno a chiudere un rapporto sentimentale cioè nel senso che molti matrimoni finiranno molte convivenze finiranno o molti amori appena iniziati avranno una fine devo dire che in amore la bilancia il mese di aprile non è dei più tranquilli beh però io mi permetto anche di dire che a volte quando le cose insomma che non funzionano si concludono forse insomma ci liberano il cuore possiamo aprirci verso cose che forse sono più adatte a noi quindi vedi che io sono sempre positiva e beh ma hai studiato poi sono stata sulla luna guarda là sono tutti molto positivi bene ci fermiamo soltanto per un attimo restate lì perché poi continuiamo con gli altri segni ed ecco ci siamo ritornati ad angoli e colgo l'occasione perché all'inizio di questo appuntamento insomma travolta dalla curiosità di sapere cosa poteva accadere per ogni segno dello zodiaco nel mese di aprile ho dimenticato di ricordarvi che potete sempre restare in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail quindi ve la ricordo l'indirizzo è sempre lo stesso è sempre angoli chiocciola espansionetv.it ma ritorniamo come ho detto a questo mese insomma per ogni segno dello zodiaco ci sono delle sorprese che noi vogliamo interpretare sempre in maniera positiva e soprattutto lo facciamo con il nostro amico Franco Copes di nuovo buonasera vedi Dolores che anche tu sei sulla luna ti sei dimenticata all'inizio che lo fai sempre sei sempre così preciso ma oggi la tua presenza mi confonde anche perché sono sempre preoccupata di quello che tu puoi prevedere per il mio segno quindi non sapendo cosa mi aspetta ovviamente il mio pensiero e altrove ma io direi allora torniamo abbiamo concluso la prima parte con le previsioni per la bilancia bravissima e quindi siamo arrivati allo scorpione ma guarda devi aver proprio studiato eh mi sono preparata molto non è che hai preso un quaderno un libro e ti sei dato allora per quanto riguarda eh lo scorpione avete iniziato questo mese di aprile abbastanza in sordina però devo dire che vi aspetta proprio vi aspettano questi altri giorni all'arrivo delle cose belle no ci saranno positività per tutti i single del segno dello scorpione quindi molti single che non pensavano di incontrare l'anima gemella avranno l'occasione giusta anche qui devo dire per molti studenti che dovranno sostenere degli esami di andare tranquillamente ci sono alcuni studenti che devono comunque recuperare delle materie ma lo faranno con grande grinta e grande professionalità quindi slancio impegnatevi perché tutto andrà bene ma voglio farti una domanda perché questi scorpioni i single che potrebbero insomma trovare l'anima gemella diamo qualche suggerimento in più con quale segno lo scorpione insomma ha più possibilità di consolidare? Allora per quanto mi riguarda ok lo scorpione può amalgamare molto bene con la vergine con il cancro no e con i pesci possono essere delle scelte positive poi ascolta dolores devo dire che tutti i dodici segni possono essere amalgamati cioè quindi basta che due persone vadino d'accordo vedi come andiamo d'accordo io e te ci amiamo da morire e siamo l'opposto uno e l'altro assolutamente quindi insomma viva l'amore in ogni caso bene allora il prossimo segno non mi è indifferente perché il segno del sagittario quindi anche qui dovrei dovrei giocarci molto però voglio fare il serio stavolta quindi cari sagittari e quindi ascolta tu ascolta bene perché in questo caso sei inclusa ti riguarda allora cari sagittari via via tutto quello che avete pensato di voler programmare nel questo periodo perché il mese di aprile vi aspetta qualcosa di stupendo quindi se voi avevate programmato delle cose sulla luna ecco ripeto ancora sulla luna scartatele perché avrete i piedi per terra e prenderete delle decisioni importanti sotto molti aspetti molti voi del sagittario potreste anche programmare di cambiare casa o modificare casa mentre invece ci saranno delle grosse opportunità in campo sentimentale e in campo professionale per fare qualcosa anche all'estero ma che bello quindi non avevo sbagliato bene allora continuiamo con i nostri segni siamo arrivati al capricorno che dire che dire che dire allora periodo un po negativo è stato alla fine di marzo ma proprio avete avuto delle grosse problematiche voi del capricorno e devo dire che fino al 15 16 di aprile le cose non andranno nella giusta direzione per molti capricorno quindi via non pensate a nulla e pensate di arrivare dopo il 15 di aprile e le cose che avete messo così un po in cantina nei mesi passati dal 15 in poi potranno essere rispolverate e via la grande quindi una ripresa una ripresa buono il settore sentimentale bene quindi insomma non ci si lamenta poi quando si è in ripresa tutto insomma può solo che migliorare quindi è comunque una bella indicazione siamo all'acquario cosa succede allora cari acquari devo dire che sarà un mese dove potrete veramente programmare di tutto ma di tutto e di più perché sarà un mese fondamentale e tutto questo specialmente per gli artisti per chi dipinge che perché per chi scrive per chi fa dei lavori veramente positivi quindi ripeto sarà un mese fondamentale dove voi del l'acquario avrete modo di spiccare il volo ma per molti dell'acquario sarà il mese di maggio dove avranno delle grosse opportunità di affermazione professionale tranquilla la sfera sentimentale una curiosità è citato insomma possibilità artistiche per l'acquario quindi l'acquario è un mese insomma dove l'arte l'acquario per il mese di aprile è un mese fondamentale per gli artisti in genere ecco quindi insomma artisti acquario è un'accoppiata esatto vincente ma non solo vincente è super vincente quindi insomma ogni segno peccato che non sei dell'acquario io non sono dell'acquario non c'entro nulla però vabbè pazienza allora siamo arrivati ai pesci e poi ho un'altra domanda da farti io sono qui perché ormai sei tu che tartassi me ormai sei mio certo parliamo dei pesci cari pesciolini via 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 e ancora via quindi andate al mare sguazzate dove volete perché sarà un mese dove le conquiste saranno all'ordine del giorno bello il periodo che va dal 15 al 28 di aprile dove ci saranno delle grosse opportunità e dove per molti voi pesciolini potrete realizzare anche dei sogni molti pesciolini che hanno programmato il matrimonio per il mese di maggio dovranno comunque valutare molto bene il viaggio di nozze perché alla fine cambierete destinazione quindi un colpo di scena un colpo di scena di meta invece la domanda che volevo farti è pesci quindi un segno doppio come per esempio anche i gemelli che cosa vuol dire e poi qual è l'altro segno doppio non lo so la bilancia la bilancia esatto la bilancia insomma hanno una caratteristica particolare rispetto agli altri diciamo che vogliono apparire quello che non sono quello che non sono e quello che vogliono essere quindi dobbiamo insomma cercare di conoscerli di conoscerli molto molto bene perché loro o ti adorano o ti uccidono hai capito oppure hanno proprio un modo di essere un modo di porsi che tutto è dovuto e niente dato vabbè quindi insomma teniamo in considerazione questa osservazione sempre con le pinze con le pinze è logico si ride si scherza anche non si prende mai tutto troppo io però prima di passare magari a qualche tema diverso vorrei aggiungere che per tutti i dodici segni dello zodiaco e qui tocco il tasto sempre dei ragazzi giovani di essere molto più sereni più tranquilli perché la situazione è una situazione positiva ma nel vero senso della parola quindi valutare tutto quello che c'è da valutare perché sarà un mese fondamentale per tutti 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 voi del segno dello zodiaco un'osservazione importante in questo senso franco se sei d'accordo abbiamo insomma raccontato riso scherzato su quelli che sono i dodici segni dello zodiaco però c'è una cosa insomma un evento che voglio che ci ha toccato un attimino commentare con te siamo all'inizio di aprile qualche giorno fa negli ultimi giorni di marzo è mancato un personaggio televisivo amatissimo che non era soltanto un personaggio televisivo ma davvero uno di casa io avendo avuto modo di conoscerlo il periodo della rai quando frequentavo la rai devo dire fabrizio frizzi permettete di nominarlo è stato ed è perché secondo me è una persona che ricorderemo come è stato detto uno di famiglia no una persona che ho scoperto molto tardi di di quello che lui ha fatto vent'anni fa una cosa che non credo tutti gli artisti si sarebbero stati pronti a farlo poi lui viveva in in disparte di tutti però lui finita le trasmissioni i personaggi se ne prendevano se ne andavano cioè mentre lui invece rimaneva a parlare con gli ospiti si contò e aveva una parola buona per tutti mancherà molto per la sua gentilezza il suo modo di essere quindi devo dire che veramente la fine di marzo è stato un po un una botta per tutti noi però devo dire che ci mancherà un amico e un presentazione un presentatore con la dolcezza che ben pochi ce l'hanno certo quindi ci ha fatto piacere ricordarlo esatto esatto credo credo di sì persona e in questo ultimo minuto invece che abbiamo a disposizione vogliamo un po di gossip diverso ma soprattutto rilanciare perché ci vedremo ovviamente a maggio e maggio è ma riesci a ritornare certo torno solo per te e quindi a maggio ci sarà un evento importante maggio è il mese dei matrimoni ce ne sarà uno importantissimo il nostro no non è il nostro è quello ma scusa prima mi dici dobbiamo dire che il 18 18 no è il 19 il 19 di maggio ci sposiamo no non ci sposiamo noi almeno non quest'anno ma si sposeranno henry e un altro certo un altro ma io devo dire ascolta io ho visto la ragazza prenderà forse molto più della moglie di william perché insomma è più vicina più vicina alla gente contemporanea bene allora io ti direi parleremo di questo nel dettaglio qualche pettegolezzo certo perché ci vediamo prima preparati noi ci vedremo sicuramente prima quindi insomma ma vi lascio già è certo è il momento di salutarci ciao dolores a che ora parti non lo so devo ancora prendere il biglietto grazie a tutti ti ringrazio grazie a franco copes e grazie anche a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia rimanete lì tra poco la linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti Grazie a tutti.